5 Rimedi naturali contro il naso chiuso Per liberare il naso chiuso, oltre a ricorrere a questi rimedi naturali, è importante una buona idratazione che favorisca l'espulsione del muco. La congestione nasale, o naso chiuso, è un sintomo provocato dall'infiammazione ed ostruzione dell'apparato respiratorio, caratterizzato da una produzione eccessiva di muco. È il tipico disturbo collegato all'influenza e al raffreddore oppure causato da una reazione allergica. La congestione ostacola il passaggio dell'ossigeno ai polmoni, rendendo difficoltosa la respirazione. Si accompagna, inoltre, alla formazione di muco acquoso o più denso che talvolta gocciola fastidiosamente dal naso. In commercio esiste un'ampia varietà di prodotti che aiutano a tenere sotto controllo i sintomi e a ridurre l'infiammazione. Sono altrettanto numerosi i rimedi di tipo naturale che esercitano effetti simili ai farmaci, senza provocare reazioni collaterali. Tenendo conto che molti di voi preferiscono ricorrere alle alternative naturali, abbiamo scelto i 5 rimedi più efficaci. 1. Foglie di eucalipto Gli estratti naturali contenuti nelle foglie di eucalipto hanno un effetto antistaminico e antinfiammatorio che aiuta a diminuire la congestione nasale. Possono essere sfruttati nelle terapie con il vapore, aiutano a liberare le vie respiratorie e ad espellere l'eccesso di muco. Ingredienti 6 foglie di eucalipto 4 tazze d'acqua 1 litro Preparazione Mettete 6 foglie di eucalipto in una pentola con acqua e portate ad ebollizione. Appena bolle togliete dal fuoco e, coprendo la testa con un asciugamano, inalate i vapori. Ripetete il trattamento tutte le sere prima di andare a dormire, fino a miglioramento dei sintomi. 2. Miele e aceto di mele L'accostamento del miele con l'aceto di mele è un trattamento naturale che aiuta a combattere i virus e i batteri che attaccano le vie respiratorie. In entrambi gli ingredienti si concentrano principi attivi antinfiammatori, analgesici e decongestionanti che alleviano il naso chiuso causato da raffreddore ed influenza. Ingredienti 1 cucchiaio di aceto di mele, 10 ml 1 cucchiaio di miele, 25 g 1 tazza di acqua tiepida, 200 ml Preparazione Mescolate l'aceto con il miele in un bicchiere di acqua tiepida fino a quando non saranno ben sciolti. Bevetelo a stomaco vuoto. Ripetete tutti i giorni fino a scomparsa dei sintomi. 3. Aglio e curcuma Già nell'antichità le proprietà antibiotiche ed antinfiammatori dell'aglio venivano impiegate nel trattamento della congestione nasale. Le virtù dell'aglio, sommate alle proprietà della curcuma, rafforzano il sistema immunitario e contribuiscono, quindi, ad un rapido sollievo delle vie respiratorie. Ingredienti 3 spicchi di aglio tritati 1-2 cucchiaino di curcuma in polvere, 2 g 1 tazza di acqua, 250 ml Preparazione Mettete sul fuoco un pentolino con una tazza d'acqua, quando comincia a bollire, aggiungete l'aglio tritato e la curcuma in polvere. Togliete il pentolino dal fuoco, lasciate riposare il decotto e, infine, filtratelo con un colino. Prendetene mezza tazza al giorno, per tre o quattro giorni. 4. Foglie di basilico Colazione rinfrescante ed antibatterica del basilico è efficace contro gli agenti che causano l'ostruzione delle vie aeree. Il basilico ha un blando effetto espettorante che favorisce l'eliminazione del muco, causa del naso chiuso. Allo stesso tempo, calma i bronchi e aiuta a regolare il processo di ossigenazione. Ingredienti 6 foglie di basilico 1 tazza di acqua 250 ml Preparazione Aggiungete le foglie di basilico in una tazza di acqua bollente. Lasciate riposare per 10 o 15 minuti. Filtrate l'infuso e bevetelo fino a tre volte al giorno. In alternativa, masticate quattro foglie di basilico la mattina e prima di andare a letto. 5. Zenzero e limone La classica tisana allo zenzero fresco e limone resta uno dei migliori trattamenti per il benessere delle vie respiratorie e dei polmoni. Lo zenzero, spezia dal sapore piccante, contiene un principio attivo chiamato gingerolo, con effetto antivirale e antinfiammatorio. I suoi sali minerali e le vitamine migliorano la risposta immunitaria contro gli agenti patogeni. La tisana aiuta ad eliminare il muco e, allo stesso tempo, a calmare l'infiammazione. Ingredienti 1 cucchiaino di zenzero fresco, 5 g 1 tazza di acqua, 250 ml 1 cucchiaio di succo di limone, 5 ml 1 cucchiaio di miele, 25 g Preparazione Mettetelo zenzero fresco in una tazza di acqua bollente, aggiungete il succo di limone e il miele. Bevete due tazze di questo infuso al giorno, per una settimana. 2 cucchiaio di macinata Grazie a tutti.